Difesa da confermare, centrocampo da modificare, attacco da registrare. Michele Pazienza, in vista della sfida di domani sera contro il Crotone, avrà da riflettere. Il reparto arretrato sembra essere quello maggiormente solido, Cancellotti, Rigione e Cionec sono baluardi e danno garanzie. E dunque è da lì che si deve costruire lo scheletro del 3-5-2, dal quale, gioco forza, nessuno si discosterà, soprattutto in una partita così importante. A centrocampo, come detto, qualche pedina va modificata. Il maggiore indiziato per sedersi in panchina è Sonni D'Angelo, nonostante nell'ultima uscita Luca Palmiero sia stato fortemente criticato e non stia dando le garanzie richieste. Assunto questo, l'unico che può insidiare il posto da play è Federico Casarini. Potrebbe essere lui a comporre la mediana insieme ai soliti Tito e Ricciardi sugli esterni, Armellino ed appunto un Palmiero in cerca di riscatto. L'altro dubbio di pazienza potrebbe essere in avanti. Sgarbi tornerà ruolabile e si prenderà il suo posto con lo scettro della fantasia. L'incognita riguarda chi farà coppia con lui. Patiano e Gori si giocano le stesse chance, con Marconi che ovviamente non vorrà restare a guardare. Un'eventuale bocciatura racconterebbe molto anche del suo futuro ed aprirebbe nuovi scenari in vista di gennaio.